Il nostro dentista ci può far fare un'ortopanoramica, questo è un esame, uno screening normale che qualsiasi dentista fa fare e viene fuori una situazione tipo questa con degli ottavi inclusi. Adesso il problema è come toglierli, dove toglierli. Farli togliere dal dentista, il dentista in genere toglie l'anestesia locale, a studio, uno alla volta. Farlo dal chirurgo maxillofacciale? Sicuramente il chirurgo maxillofacciale ha una maggiore pratica chirurgica e può risolvere il problema radicalmente, rapidamente, con meno fastidi. Si fanno in genere tutti e quattro, se l'asportazione viene effettuata da tutti e quattro i denti del giudizio, tanto è inutile tenerne uno o due che potrebbero dare fastidio in un secondo tempo. Quello a cui bisogna stare particolarmente attento è il nervo alveolare inferiore, che è la terza branca del trigemino. Molto spesso le radici del dente del giudizio vanno a toccare la terza branca del trigemino. Allora, il trigemino è un nervo sensitivo, non è un nervo motorio, quindi anche nella denegata ipotesi in cui si facesse una lesione della terza branca del trigemino, il deficit è esclusivamente sensitivo, una piccola areola nel labbro inferiore, quindi banale, ma fastidioso, soprattutto per un uomo quando si fa la barba e c'è il fastidio, perché non si sente bene la lametta che passa. Anche per questo i denti del giudizio io me li farei togliere in sala operatoria, in anestesia generale, se ne tolgono tutti e quattro, si è molto, si ha la possibilità di essere molto più attenti alla salvaguardia del trigemino e i pazienti si gonfiano decisamente di meno, in quanto l'anestesista ha una gestione farmacologica sicuramente più valida di quella che normalmente si effettua in uno studio dentistico. Quindi maggior rapidità, maggior precisione, minore quantità di complicanze, il paziente dopo aver tolto anche tutti e quattro i denti del giudizio, deve fare qualche giorno di terapia medica, qualche giorno con fastidi a livello dei siti di estrazione, ma niente di più, complicanze rare, rarissime, c'è la frattura della mandibola, ma una complicanza veramente rarissima, che in sala operatoria però può essere risolta brillantemente e rapidamente senza problemi. Quindi se volete avere un consulto da me per decidere cosa fare dei vostri denti del giudizio non dovete fare altro che prendere l'appuntamento e cercherò di aiutarvi al meglio.